Formazione è uno dei termini più abusati nel settore immobiliare. L'offerta formativa infatti è vasta e variegata, per tutti i gusti, tutte le tasche, è conformatore di retroguardia, d'avanguardia, d'oltreoceano. Sì, ma la domanda? Perché tutti sappiamo che gli agenti immobiliari fanno fatica a mantenersi aggiornati e costantemente formati. Proprio su questo tema ho scritto un post sul quale vorrei anche la tua opinione dove cito tra le altre cose i dati di una recente indagine fatta da un noto formatore e manager immobiliare. Ti chiedo quindi di leggerlo, di commentarlo e se ti piace di condividerlo.